La coesione digitale è un obiettivo ineludibile di un'Europa inclusiva e di un'Europa che renda i cittadini europei uguali. Oggi la dimensione digitale è una dimensione assolutamente rilevante per la vita di ciascuno di noi, dal momento in cui si studia, al momento in cui si lavora, alla fase anche delle malattie, al semplice relazionarsi affettivamente con persone care che sono lontane dal luogo in cui si vive. E quindi è necessario guardare, per considerare l'eguaglianza sostanziale dei cittadini europei, guardare al tema del divario digitale e di come esso debba essere colmato. Un primo step essenziale è quello della infrastrutturazione digitale, cioè le infrastrutture su cui corrono i dati devono essere ugualmente potenti, ugualmente dotate, perché altrimenti le aree più marginali, isole, aree montane, aree interne, borghi rurali, rischiano di essere lontani o con connessioni discontinue. La infrastrutturazione omogenea è la prima base su cui poggiare una digitalizzazione del sistema, ma è una precondizione, occorre poi rafforzare le competenze digitali, rafforzare la capacità dei cittadini di stare in rete attraverso strumenti, computer, portatili, ma anche quello di garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati che circolano sulla rete. L'approccio alla coesione digitale è un approccio complesso, articolato, ma che deve guardare all'eguaglianza sostanziale e al principio di coesione, sancito dall'articolo 174 del Trattato europeo. Superata la dimensione di un divario che vedeva il digitale presente solo nelle grandi città del centro Europa e nelle aree centrali d'Europa rispetto alle aree marginali d'Europa, oggi è necessario guardare ai divari anche interni alle singole regioni, anche regioni molto industrializzate, molto avanzate economicamente, e hanno al loro interno dei divari digitali. Pensiamo alle aree interne, ai borghi o alle piccole isole, nel caso di isole, soprattutto quindi aree territoriali con la doppia insularità, che soffrono parimenti di un divario digitale. Questa è una seconda fase dell'approccio alla coesione digitale, che deve quindi guardare all'eguaglianza sostanziale, cioè dobbiamo lasciare e abbandonare i macronumeri degli approcci regionali e degli approcci statali e entrare nell'eguaglianza dei territori e dell'eguaglianza delle posizioni dei cittadini, quindi superando un approccio generalista e guardando alla effettività della connessione digitale. È un lavoro chiaramente che non si risolverà in breve tempo, però è importante che nel lessico europeo sia entrato il concetto di coesione digitale e il compito di questo parere è quello di contribuire alla definizione di questo concetto che diventerà un parametro su cui misurare la capacità di rendere coesa la nostra Europa e renderla veramente inclusiva.